Un giallo risolto, ne abbiamo parlato per tutto l'anno, un mistero, 29 coltellate, questa donna uccisa nel garage di casa sua dopo una riunione di preghiera a Rimini. Chi c'è dietro il delitto di Pierina? Siamo a pochissime ore dalla svolta clamorosa nelle indagini. Vi possiamo dire che nelle prossime ore, alle 18 circa, verranno sentiti in quest'ora a Rimini Valeria Bartolucci e Luis Da Silva, suo marito coniugi di Rimpettai di Pierina Paganelli, tra i quattro sospettati insieme a Manuela Bianchi, nuora della vittima e Loris, suo fratello. Sembra che il cerchio vada a stringersi, quello che vi possiamo dire è sicuramente che non è da escludere che la posizione di una di queste persone possa aggravarsi nelle prossime ore. Ci saranno nuove attività, vedremo che cosa emergerà dall'inchiesta, di certo tutti i tasselli vanno a comporsi nel puzzle di chi indaga da tanto tempo nel massimo riservo. Ecco Valerio, quindi verranno risentiti Luis e Valeria, ricordiamo che poi durante l'inchiesta si scoprì anche questa relazione segreta tra Luis e Manuela che è la nuora di Pierina. Sicuramente verrà sentita sommare informazioni testimoniali Valeria, anche perché ci sarebbero state delle sue dichiarazioni in televisione che hanno lasciato dei dubbi, perlomeno così sembra, e poi bisognerà capire che cosa succederà. Dobbiamo un attimo mantenerci sul chi va là per tutelare chiaramente il lavoro degli inquirenti. Grazie, grazie Valerio Scarponi per questo aggiornamento.